Solito Chunker? Va bene, va bene C'era ragione lei a buttarsi Sì, no, ma io sono basso invece Eh, la vedo che è basso, però c'è gente che non ci... Eh, vabbè, atterro qua su delle armi Attenzione perché sì, non hai due team Hai un team qua e un team qua Ho fatto uno io, eh? Ah, bravo Ah, no, ne ho fatti due invece Eh, allora siamo due di due Velocizzo un attimino e andiamo a farci gli ultimi due Ma sei sicuro che c'erano altri due? Sì, sì, li ho visti dall'altro Ok, no, perché io non li ho visti, sinceramente Ah, eccolo, eccolo, uno è là È più verso di lei che di me, attenzione Uno è sul pontile, uno è sul pontile Lo vedo, lo vedo, lo vedo 29, 44 Ok, perfetto Abbiamo un doppio angolo bello, eh White, quello con la skin rossa 28 white, 43 knock Dai, bene, bene, bene Andiamo? Dobbiamo andare, dobbiamo andare per farci a questo nuovo rest Arrivo in macchina Stanno già ressando, eh, stanno già ressando Eh, ovvio, ovvio, ovvio Ha già ressato, anzi Tra uno di vita a quello di... Entro, dietro, co... Cento Ok, andiamo, andiamo, andiamo Forte uno? Forte Perfetto Spendiamo la macchina Oh, bene È acceso come un albero di Natale anche lei Che fai sto che roba Ma come ha fatto a siederlo in aria, infatti? Ma io freddo, eh Andiamo, andiamo, andiamo Piano, piano Ma se, come piano piano, scusi Allora, scusi Ma prima di andare avanti con il video, ragazzi Volevo aprire con voi Il nuovo pacco Che mi è arrivato da Level Up C'è dentro Un gusto Nuovissimo Che proveremo insieme Olè Aio Il nuovo Gusto Gummy Bomb Praticamente Ci sono Gli orsetti Gommosi Dai ragazzi Chi non si ricorda Gli orsetti gommosi Chi non li ha mai mangiati Io li ho mangiati Vorrei andare a provarlo Vi ricordo ragazzi Tra l'altro Che proprio da oggi Alle ore 18 Sarà disponibile Nello store di Level Up E con il codice XIUDERONE Avrete il 30% Di sconto Sul vostro acquisto O di questo Oppure dei prodotti Che volete Io direi di andare all'assaggio Mi è venuta voglia Mi è venuta voglia Mezzo litro d'acqua Un misurino di prodotto Shake 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 Ed eccolo qui ragazzi Oramai i passaggi li conoscete Non vedo l'ora di assaggiarlo Ha un profumo Di caramelle Che è devastante Ragazzi Sono gli orsetti Sono gli orsetti Mamma mia Mamma mia Questo è più buono Degli orsetti Ragazzi Dolce Ma non troppo dolce Con il sapore Di orsetto gommoso Che tutti conosciamo Ne bevo ancora un goccio Da provare ragazzi Da provare Level up Fatto dai gamer Per i gamer Sono lì Sono lì Ti avviciniamo Possiamo avvicinare anche con Spider-Man Che è qua sotto Ma vede un po' lei Come vuole Ah l'ha già preso L'ha già preso Andiamo Andiamo Un altro box No no Questo vuole scappare Il bastardo Non lo colpi Veramente Non lo colpi I medici Ma veramente Ma niente Vado con quelli piccoli Ma io sono il cattato di lui Troppo 19 50 Ancora un caricatore E' bianco eh Salgo Mi ha fatto parecchio Mi ha fatto parecchio Ma Oh C'è un box Che figa Bravo È andato È andato Un sacchino I funghi volanti Ah l'ha raggiunto il livello 100 Fina C'è che ci arriva da qua Ok E uno è anche a piedi Sì ti sto già guardando Vedi un po' Quello con la skin nera Era bianco praticamente Mi calma Mi tenga lag se può Sì ce l'ho Quasi white Quello che è là sotto Fatto a 60 Glielo rompo adesso White 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 Perfetto È andato È andato È andato Sì è morto È l'altro che invece ha jumpato Eh provo ad andarlo a recuperare ora 14 triplo Quadruplo L'ho scurrellato L'ho scurrellato Non so cosa voglio dire Ma arrivo Senta rapi E mi Come cazzo Doppio bianco ancora No Sei morto Ciao bello Prenda tutto Si rifacilli bene le idee Ma guardi io ho le idee Limpide Andiamo Gente ancora a destra Con spiderman uguale Eccoli da lì E facciamolo accostare 21 Infatti so Ci arriva 33 22 Questo è bianco Sì sì è crack Quello Vado su questo qua Guarda ma ne arriva un altro Allora un problema E arriva addosso questo Un attimo che Vengo da lei Ci fightano Sono lì tutti assieme Ok Prova a prendere una laserata Sopra in full light E uno qua Questo lo facciamo fare È bianco Va dentro 22 white Ma e dov'è che sono? Sotto Bravo Ok è andato Molto bene Bravo 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 Io un po' direi Così c'è Andiamo 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 Bene C'è ancora uno spiderman comunque È qua è qua Sì eccolo eccolo Vogliamo prenderlo Lo dobbiamo prendere questo Lo provo a tagliare da qua Io infatti viene di qua Lo tagli se può Provo a blocciarlo io Ce lo sparo facile 22 22 doppio Vado addosso Basta è qua dentro nel box Non si muove più Vado È andato Mangiate Bene bene È pieno qua C'è mitraglietta viola Arrivo 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 Ha preso il pad? Sì ho preso il pad E le avviso che c'è gente qua Sono dietro di lei Andiamo là Andiamo Mi imbuscio un attimo Perché li vedo appostati Incazzati neri Dove sono? L'ho visto? Sopra 20 e 30 Vado? Eh 20 e 30 gli ho fatto Ma non è craccato però Ma 20 e 30 di 8 e mezzo O non ho capito Craccato Eh questo è uno di vita E non so Andiamo a prendere Sono andati su di brutto Sì Purtroppo 19 19 Dietro Attenzione Attenzione Bravo Porto Bene 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 Chizze Voglio solo dirti una cosa È dal primo gennaio Che gioco 12 ore al giorno A Fortnite Fidati Cazzo C'è un minimo miglioramento C'è stato Fidati Sono cambiate un po' di cose Sono due Sono due Due belli Andati questi Un po' pericoloso Che gli entro nel box Lo prendo dal lato Se lo prendi da lì Ma cosa stanno facendo? Lo so ma Mi è andato Mi allontano un attimo Per curarmi Sì sì un attimo con calma Carico mi trovi E' un po' di aiutar Bravo Eh no c'è ancora Allora lo prendo dal cancro Come sta questo? È salito È salito È salito Cazzo di merda 22 22 24 blu Ok 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 Fai pizze che te lo fai One È andato È andato Bene 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 Ho sentito uno nel cespuglio io Andiamo a sbombardarli Andiamo Non mi Oddio non ho Spiderman Un secondo Come non ho Spiderman? L'ho preso adesso Lo blocchi per la madonna Adesso lo blocco La star è andato dietro Vuole fugare eh Eh ma io ci sono vicino Sto bloccando 41 Morto Bene Per caso c'è un pad lì? Eh toh Ne ho tre Trova chi Va bene Andiamo allora Sì sì vai ti seguo Anche perché adesso ogni kill in più che facciamo son 100 patatine Porca troia Sì Perché ogni kill in più adesso? Non lo so quanti kill hai tu? Eh ne ho 11 Io ne ho 4 quindi siamo esattamente a 15 Ho vinto 100 e vinto Ogni kill in più adesso son 100 patatine Ok E allora c***o lo spingiamo Qua sotto 20 Morto Ok 46 Ok Ma mi ha salvato il culetto eh C'è un altro qua per terra lo vedo 20 Prendo dal lato Sto boxato Bravo Pizz Eccolo lì 23 Bravo Posto 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 Quello che stava fightando però eh Un altro? Un altro? Un 5 vuol dire che abbiamo Scendo la loro te lo dico io Morto Bene Un altro Occhio che c'è un altro sì E vado in safe io Riesce a venire? Sì Ok Tutti qua sotto eh Guardi io sono con lei ma ho 28 di vita Ne ho messo Eh l'ho trovato White morto Bene 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 Altro da dietro Da dietro mio È l'ultimo è l'ultimo C'è l'ho Let's go Bene 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 24 kill Aio 38 Mila Punti Secchi Mamma mia 38 38 mila Punti 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 Punti